La ginnastica ritmica del movimento sportivo popolare riconosciuto dal CONI non smette di viaggiare e porta i suoi atleti in costiera cilentana. Dal 22 al 25 aprile prossimi il Centro Sociale Polifunzionale Federico Giuliani di Marina di Camerota ospiterà le fasi finali nazionali. Nella cittadina rivierasca giungeranno società sportive da tutta Italia. Una grande opportunità per il nostro territorio che è stata possibile ottenere grazie alla struttura che ospiterà l'evento e grazie alla quale Camerota sta diventando sempre più protagonista di manifestazioni sportive di rilievo, dichiara Vincenza Perazzo, assessore comunale allo sport. La cerimonia di apertura della manifestazione avrà inizio alle 14.30 del 22 aprile. Per agevolare i partecipanti negli spostamenti sono state previste una serie di navette, anche serali, per permettere agli atleti e agli accompagnatori di visitare il paese. Intanto Villa Mare, altra cittadina rivierasca del Cilento, si prepara ad accogliere per la prima volta una gara di triathlon. La sfida è in calendario per il 18 e il 19 giugno prossimi.